Solo un commissario governativo può avere un potere straordinario. Dobbiamo assolutamente ricorrere a una persona, come può essere un commissario che ha dei poteri straordinari, che allo stesso modo di sala per l'Expo ci dia la possibilità di poter operare una variante anche in difformità da quello che è stato il bando di gara iniziale. Solo un commissario straordinario del governo e non della regione può aiutare Como a risolvere il caso Paratie dopo la bocciatura dell'anticorruzione rispetto alla terza perizia di variante e l'indagine avviata in settimana dalla procura di Como. A dirlo, anzi a ribadirlo, visto che il tema era già stato lanciato nel 2012 in campagna elettorale, sono i rappresentanti della lista per Como che oggi, durante un incontro con la stampa, hanno bocciato l'operato dell'amministrazione comunale nell'ultimo anno, ma non solo. Numerose le note dolenti sottolineate dal consigliere d'opposizione Roberta Amarjorati, dal flop del bando per il progetto di un condominio sociale nella Casalbergo di Via Volta, al dietrofronte del comune sul punto unico di cottura per le emesse delle scuole comasche, visti i costi lievitati da 700 mila euro a un milione e due. Ma il vero allarme lanciato riguarda l'area Ticosa. Non a caso ho parlato delle paratie prima, la stessa situazione potrebbe presentarsi per la Ticosa. Perché? Perché noi partiamo da un bando di 15 milioni, vendita 15 milioni, e adesso molti ce ne propone 7. Sicuramente noi potremmo avere l'anaca alle porte, non possiamo che riscindere il contratto, se no avremo veramente dei guai legali, non indifferenti. Di conti sbagliati parla anche l'ex consigliere comunale della lista, Mario Molteni, che contesta l'aumento delle tasse, la gestione dei fondi arrivati dai frontalieri e le previsioni sulle alienazioni o sugli ingressi nella futura Villa Olmo, soprattutto alla luce del flop della grande mostra. Bocciata infine anche la selezione delle priorità, il riferimento è la riqualificazione di Piazza Volta con cantiere al via del lunedì. Piazza Volta addirittura a 700 mila euro la considerano una priorità, allora noi l'abbiamo detto più volte. Le priorità di Como non sono Piazza Volta, prima bisogna sistemare le vere necessità, a cominciare dalle periferie, dagli impianti sportivi, che sono disastrati, basta guardare anche il palazzetto di Mugio.